Allora, noi dopo tantissime esperienze, come dicevo prima, fatte in singolo, abbiamo ben pensato di organizzare questi ride a staffetto, dove il gommone è uno solo e gli equipaggi cambiano, 300.000, 250.000 cambia l'equipaggio. Abbiamo cominciato con un giro d'Italia, per poi arrivare a Gibilterra, Atene, Atene e poi Castellorizzo e quest'anno il ride europeo, che ha toccato alcune delle capitali europee. È stato entusiasmante da parte di chi è partecipato, di chi ci ha seguito soprattutto, veramente non finiremo qui. Noi continueremo, abbiamo già in previsione un paio di ride di questo tipo anche in futuro e sicuramente Confindustria Anautica chiederemo sempre il patrocinio. L'anno prossimo faremo un giro d'Italia allargato, nel senso che faremo un giro d'Italia, faremo le isole, comprenderemo anche la Corsica, Corsica, Sardegna, Sicilia, per poi passare di là alle Tremiti e risalire poi la costa croata ed arrivare fino a Venezia, dove saremo presenti per il Salone Nautico di Venezia, che se non mi sbaglio è partner con il Salone Nautico di Genova.